Nell'unità operativa complessa di medicina generale ci si occupa della diagnosi, della cura e dell'assistenza delle malattie cardiovascolari, dell'ipertensione arteriosa, delle trombosi venose, del diabete, delle malattie reumatologiche come ad esempio l'artrite reumatoide, delle polmoniti e di molto altro. Per alcune discipline particolari ci sono ambulatori dedicati come quelli di diabetologia e reumatologia. Il reparto può contare su 50 posti in etto di degenza oltre agli ambulatori. Lo staff è composto dal direttore, da 10 medici specialisti con varie competenze, 22 infermieri e 14 operatori sociosanitari, oltre a un coordinatore infermieristico per il personale non medico e una segretaria. I ricoveri sono in media 1300 l'anno. Sono costituite sostanzialmente da patologie dell'apparato respiratorio, in particolare le polmoniti le fanno negli ultimi anni da padrone. Abbiamo più di 350 ricoveri, circa 200 delle polmoniti, poi ci sono le embolie polmonari, i tumori polmonari. Abbiamo 180 ricoveri per l'insufficienza cardiaca, lo scompenso di cuore. Ci sono un centinaio di ricoveri per le malattie infettive, tra cui le setticemie, malattie infettive molto gravi, in cui c'è di fatto l'invasione del sangue da parte di batteri. Poi abbiamo ancora patologie neurologiche, un centinaio di ricoveri all'anno, soprattutto ictus, emorragici ed ischemici. Un certo numero anche di malattie renali, tra l'infezione delle vie urinarie e l'insufficienza renale, e poi le malattie ematologiche e delle anemie in là. Un discreto numero di ricoveri è dovuto anche alle patologie neoplastiche di vari apparati o d'organi. La giornata tipo inizia nell'area centrale del reparto, quella infermieristica, con un briefing che due volte a settimana diventa un incontro specifico con i medici per discutere i casi clinici più importanti o per comunicare le indicazioni organizzative della direzione. Poi si parte con il giro dei pazienti. Il medico di stanza parla insieme al sottoscritto e all'infermiere della stanza per fare il quadro della situazione clinica diagnostica del nostro paziente. I medici che lavorano in questo reparto sono tutti molto appassionati. Il loro è un lavoro delicato che deve basarsi su competenze elevate per tutte le patologie. Un'attività che è vicaria a quelle delle varie specialità, con cui siamo in stretta integrazione. Per cui noi facciamo in parte il lavoro del cardiologo, in parte il lavoro del nefrologo, dell'infettivologo, del neurologo, dell'opneumologo, con cui siamo in stretta collaborazione, però curiamo noi nei nostri letti questa tipologia di pazienti. Proprio partendo da due aspetti, dal fatto che curiamo patologie che sono in parte di competenza specialistica, ma abbiamo bisogno anche del loro parere, il nostro è un lavoro di analisi della situazione del paziente e di sintesi che prevede l'impiego, per arrivare alla diagnosi, di tutti i servizi dell'ospedale e degli altri reparti dell'ospedale, ad esempio del laboratorio di analisi, della radiologia, con tutte le loro elevate competenze, e di tutti gli specialisti dell'ospedale. Alla fine noi teniamo e tiriamo le fila per quanto riguarda la situazione clinica del paziente, soprattutto tenendo presente che negli ultimi anni la complessità e le comorbilità, cioè le tante malattie che un paziente ha, obbligano a tenere presente che c'è una figura medica che deve fare da riferimento per tutti gli elementi che compongono il quadro del nostro paziente. Quanto alla tecnologia si utilizzano l'ecografo per la diagnostica rapida fatta direttamente al letto del paziente, ma anche le telemetrie per monitorare parametri clinici come l'elettrocardiogramma e la saturazione di ossigeno per seguire meglio i pazienti più delicati ricoverati in reparto. Noi facciamo riferimento proprio in base a un ragionamento clinico che tiene in conto delle malattie precedenti del paziente, dei sintomi di ripresentazione, del quadro clinico che ha in quel momento il paziente e degli accertamenti già fatti. Cerchiamo di capire insieme ai vari specialisti quali esami radiologici o esami di laboratorio dobbiamo fare per arrivare a capire meglio qual è il problema del paziente e dargli le cure adeguate all'interno dell'adegenza durante il ricovero che poi dovranno essere proseguite nel territorio. Oltre all'adegenza però c'è un ambulatorio di diabetologia, malattia in continua espansione, e un ambulatorio reumatologico con il progetto di approfondire alcune malattie a specie l'osteoporosi e l'ipertensione e poi un ambulatorio divisionale per il primo contatto dei pazienti con i medici del territorio. I pazienti nostri arrivano per il 99% direttamente dal pronto soccorso. Abbiamo una piccola frazione di pazienti percentuali, di pazienti che sono ricoveri programmati e sono persone che vengono viste in ambulatorio, diabetologico, reumatologico e anche l'ambulatorio divisionale, che hanno bisogno per la complessità della problematica di un periodo di ricovero di approfondimento per arrivare a una diangi e una terapia adeguata. La maggior parte dei pazienti sono ricoveri urgenti, provengono dal pronto soccorso per tutte le svariate patologie che vi ho detto. Ovviamente il Covid ha modificato l'organizzazione dell'attività. Abbiamo dovuto dotarci come tutti i reparti dell'ospedale di stanze filtro per accogliere i pazienti che provengono dall'esterno con queste patologie e che debbono passare proprio dal sistema dei tamponi per essere sicuri che non portino all'interno dell'ospedale purtroppo il virus Covid-19. Abbiamo dovuto destinare alcune stanze di degenza, che sono 18 le stanze di degenza, quelle più a numero di letti più basso, cioè le stanze da uno e da due letti, proprio ad accogliere questi pazienti in attesa di poterle spostare sulle altre stanze quando sono sicuramente negativi. E scopriamo ora più nel dettaglio l'attività dell'ambulatorio di reumatologia. In cui si fa valutazione clinica, diagnostica e terapia di pazienti che non sono numericamente molto grandi, come proprio il numero di persone, ma sono persone che vedono malattie che possono essere anche in età giovane molto invalidanti, se non diagnosticate in tempo e curate in maniera adeguata. Qui il collega, che è un esperto di queste malattie, riesce, come sempre attraverso un lavoro di analisi e di sintesi di vari esami che lui provvede a chiedere, riesce ad arrivare alla definizione specifica di questa malattia e in maniera tale da istituire proprio la terapia più idonea con farmaci che molto spesso, purtroppo, sono ad alto costo. Servono sicuramente, nel caso del paziente, a rallentare la progressione di questa malattia verso esiti che qualche volta sono veramente invalidanti. Seguiamo pazienti di tipo reumatologico, qui nell'ambulatorio, appositamente dedicato, e anche nel nostro hospital. Sono pazienti che vengono un po' selezionati, nel senso che i pazienti vengono seguiti quelli con un maggior impegno, sia a livello articolare che anche a livello sistemico, perché parliamo sempre di patologie che non riguardano solamente le articolazioni, ma che possono colpire anche organi interni. Noi qui facciamo circa 1.400-1.500 prestazioni l'anno come ambulatorio. All'interno di questo ambulatorio seguiamo pazienti con artrite reumatoide, con artrite psoriasica, con connettiviti, con vasculiti, e anche più di 180 pazienti che vengono seguiti con farmaci biologici, quindi pazienti con malattie reumatiche di un certo impegno che non hanno risposto alle terapie convenzionali. Ci sono poi 140 pazienti con grave osteoporosi curati con farmaci biologici. Le situazioni più impegnative, e molte colpiscono i giovani, interessano ad esempio polmoni, reni, cuore, sistema nervoso, e richiedono trattamenti più aggressivi che si fanno spesso in dei hospital per evitare o almeno ridurre il ricovero. L'artrosi è una malattia dell'anziano. La maggior parte delle malattie reumatiche infiammatorie colpisce dai 5-6 anni fino ai 50 anni. Se noi riusciamo a intervenire presto, quindi la diagnosi e le attrezzature ci permettono di intervenire presto, riusciamo anche a guarire alcune malattie reumatiche, le mandiamo in remissione. Il futuro della reumatologia dunque è nei farmaci biologici, negli anticorpi monoclonali e nelle molecole. Scorrendo gli ari di numeri comunque, in un anno a Medicina Generale, più che fughe, si registrano arrivi anche da altre ulse del Veneto. Una cinquantina di ricoveri e una ventina di pazienti che arrivano da fuori regione. Al paziente quando arriva cerchiamo di assicurare il massimo dell'accoglienza, che non è solo competenza medica o infermieristica per le patologie che ha, ma è proprio anche attenzione all'umanizzazione delle cure. Cerchiamo anche di mantenere un costante rapporto di relazione col paziente, quando competente e col caregiver, con i familiari per discutere. Al momento della dimissione, strutturare in base ai bisogni del paziente, al suo grado di autonomia e anche allo stato sociale, quello che è l'uscita migliore possibile e il rientro a domicilio, oppure nelle strutture protette. A quel punto entra in gioco il sistema territoriale, che nell'Ulss 7 funziona bene, che consente di continuare cure e accertamenti per garantire al paziente qualità elevata di assistenza sul territorio, in base alle necessità sue e della sua famiglia. Dal 2017 ai pazienti si propone un questionario di soddisfazione dell'utente per mettere a fuoco l'adegenza e migliorare dove richiesto. Tenendo presente che i pazienti sono sempre più anziani e con più malattie coesistenti, anche se non gravi, bastano pochi giorni a letto perché la ripresa sia difficoltosa e quindi bisogna aiutarli. Ecco allora la collaborazione con le fisioterapiste del reparto di medicina fisica e riabilitativa diretto dal dottor Scapin. Abbiamo da un anno e mezzo strutturato un percorso riabilitativo breve che prevede il loro intervento in reparto per assistere questi pazienti proprio nelle fasi di mobilizzazione per uscire dal letto. Se il paziente non è del tutto competente, viene chiamato anche il caregiver, cioè la persona che a domicilio lo accudirà per insegnare a loro due proprio i movimenti opportuni, più corretti per poter fare questi spostamenti in sicurezza. Comincia a insegnare proprio come spostare gli arti inferiori all'interno del letto per poter sedersi poi sul letto e su questa base tentare poi di mettersi in piedi sempre in maniera molto assistita e in grande sicurezza. Dopo le dimissioni viene fatta una valutazione complessiva delle condizioni del paziente, non solo quelle cliniche e si fa in modo di aiutare anche i familiari. Questo fa capire alla famiglia che l'ospedale lavora nella fase acuta cercando di curare al meglio le patologie ma aiuta la famiglia a portare in uscita il paziente, il proprio caro con le garanzie che intorno c'è un sistema che lavora per soddisfare i bisogni. A medicina generale insomma il paziente è sicuro di essere al centro dell'attenzione che medici e infermieri si prenderanno cura di lui non solo durante il ricovero breve o lungo che sia ma anche una volta tornato a casa. Un sostegno apprezzato ovviamente dal paziente ma anche dalla sua famiglia. Grazie. Grazie. Grazie.